Musica Andiamo a vedere nel Sancta Sanctorum dello scrutinio cosa sta accadendo. Molto piano, poi generalmente lo scrutinio è pubblico, di solito, perfetto, ora possiamo entrare, come non si può fare? Non è pubblica la cosa? Stade lì. Stade lì. Stade lì. Stade lì. Stade lì. Stade lì. Lipparini. Lipparini. Nulla. Lipparini. 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 Stade lì. Stade lì. Stade lì. Stade lì. Lipparini Staderini 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 Lipparini Lipparini Staderini Lipparini Nulla Staderini Lipparini Staderini 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 Nulla Nulla Lipparini Nulla Lipparini 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 Staderini Staderini Lipparini Staderini Lipparini Staderini Lipparini Lipparini Staderini Lipparini Lipparini Staderini Lipparini 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 Staderini Lipparini 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 Grazie. 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 Per adesso parziale è 130, 84, 1 tosoni. E 1 tosoni. 5 bianche e 139. Tu pure hai fatto il capo? 5 bianche e 139. Ah, le bianche. Io ho contato 15 bianche. Io ho forse sbagliato all'inizio perché l'avevo mischiata. Quindi per me erano proprio per aver sbagliato di 1 e 2. 12 nulle e 4 bianche. 15 e 18. 18 nulle e 5 bianche. All'inizio probabilmente. 12 nulle e 5 bianche e 1 tosoni. 12 nulle. 12 nulle, perfetto. 5 bianche, 1. Ho saltato all'inizio. 12 nulle. 12 nulle. 12 e 13. 13 nulle però. Ok, allora. quindi intanto questi... 13 nulle. 13 nulle? Sì tutte. E adesso facciamo... C'è bianche qua? C'è bianche qua? C'è bianche qua? C'è bianche qua? Adesso facciamo il tesoriere, vai. Chi parla? Qualcun altro? Faccio io? E va va. Allora, facciamo il tesoriere. Facciamo il tesoriere. Facciamo il tesoriere. a tutti quanti? Stai a Bologna? Ah zi... No, no. Quindi... Volevo dire... Stai a fare l'inizio. Cioè sentivo lui. Siccome sentivo lui... Mi sono riuscita. Sì, sì, va bene. E... Tornerò a Bologna. Devo ancora ritirarla per il galore. Ci vediamo. Dai, ragazzi non mi sono riusciti a salutare. Vabbè. Ci sentiamo. Ciao ciao allora. Ciao belli. Saluto a tutti. Ciao. Allora, stiamo facendo il tesoriere. Cos'è? Vabbè, il tesoriere lo devo solamente contare. Sì, dai. Molto facile. De Lucia. Le bianche le... Bianca. Bianca. De Lucia. De Lucia. Nulla. 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 De Lucia. Nulla. 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 De Lucia, De Lucia, De Lucia, Nulla, De Lucia, 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 De Lucia. Com'è? De Lucia. Nulla. C'è un commento. De Lucia. De Lucia. De Lucia. Che commento era? De Lucia. De Lucia. Nulla. De Lucia. De Lucia. De Lucia. Bianca. Nulla. Bianca. De Lucia. De Lucia. De Lucia. De Lucia. Bianca. De Lucia. De Lucia. Nulla. De Lucia. De Lucia. Nulla. De Lucia, 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 nulla, De Lucia, De Lucia, Bianca. Deluccia, 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 della Lucia, de Lucia, nulla. Deluccia, deluccia, bianca. Deluccia, deluccia, della Lucia, nulla bianca, 여기는. Bianca, De Lucia, De Lucia, De Lucia, De Lucia, De Lucia, De Lucia, Mulla, De Lucia, De Lucia, De Lucia, De Lucia, De Lucia, De Lucia, De Lucia. De Lucia, De Lucia, De Lucia, Bianca. De Lucia, De Lucia, Bianca. De Lucia De Lucia De Lucia De Lucia qui c'è scritto Michele De punto è abbastanza è non lo mettiamo no scusami tutti gli altri scritto benissimo Mario Staderini, Deborah Gianfanelli, Michele De io sono per se c'è scritto Pippo Pippo De Lucia è buono De Lucia De Lucia Bianca Bianca De Lucia nulla Nulla De Lucia nulla Bianca 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 De Lucia nulla Bianca nulla Bianca Bianca De Lucia De Lucia De Lucia De Lucia Nulla 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 De Lucia Nulla Bianca Bianca Nulla Bianca Bianca Nulla De Lucia, nulla, bianca, De Lucia, nulla, nulla, De Lucia, De Lucia, De Lucia, De Lucia, nulla, 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 c'è scritto Deborah Cianfanelli sia a tesoriere che a presidente, quindi nulla, De Lucia, De Lucia, De Lucia, nulla, De Lucia, bianca, De Lucia, bianca, De Lucia, nulla, bianca, De Lucia, De Lucia, nulla, De Lucia, nulla, De Lucia, nulla, De Lucia, De Lucia, bianca, nulla, bianca, De Lucia, nulla, 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 nulla due volte? De Lucia, De Lucia, nulla, bianca, Bianca, De Lucia, Ha finito? Sì, conto De Lucia, conto De Lucia, conto De Lucia, conto Massimo De Lucia, Sì, conto Massimo De Lucia, conto Massimo De Lucia, conto Massimo De Lucia, Sì, conto Massimo De Lucia, conto Massimo De Lucia, conto Massimo De Lucia, chi è colザio, Sì, conto Massimo De Lucia, 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 continuoарbura doing games, Affettato della P。 Grazie. 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 Scusate, si può sapere chi è qua il Presidente dell'Ufficio elettorale? Come lo possiamo chiamare? C'è un responsabile? È evidente l'Ufficio di Presenza quello che ho capito, è onerato. Poi il responsabile è il dirigente che dichiara... La proclamazione del voto? Eh sì. Quindi il Presidente della vecchia... In realtà, per quello che penso io, tu non dovresti registrare. Però io non sono dirigente. Perché è pubblico, ma tu non puoi entrare in un senso generalmente registrale. Puoi essere presente a vario titolo. Ok. Allora chiamiamo un dirigente che mi dice che non lo può fare, chi comanda io me ne vado. No, sullo scrutinio del Comitato non si registra quella politica, perché c'è un sistema elettorale tale per cui si riconoscono, sono riconosciti a risalire al... Se io inquadro il voto della scheda. No, no, la serialità della... Ah, la serialità. Sono cinque... Sul Comitato. Allora, Comitato mi astengo. Mi sembra applausibile. Allora, cominciamo a leggere... Io dovevo cominciare a suggerire... Mi sembra applausibile. Tu le dichiari... Stavamo a parlare di che? Siamo a parlare del Presidente. 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 Ce l'avranno... Quanti ce ne abbiamo candidati? Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Un altro si fa col compito. Questa è l'ultima cosa. No, no, no. Due. Allora, adesso sarà particolare perché lei avrà... Allora, le prime mettiamo 20 che sono tutte ciampanelli ad occhio. E poi sarà una scarica di piale. Però ovviamente lei vi dichiara solo per dirvi per chi fa che... Mischio, eh? Vado. No, no. Perché abbiamo quelle bianche, le nulle... Queste sono già separate. Cioè, nel senso, queste dovrebbero essere quasi tutte nulle o bianche. Ah, no. E' giusto per velocità. Va bene, va bene, va bene. Vado. Aspetta, aspetta. Chi lo fa? Vediamo un attimo. Se fai un attimo di stavolta perché... Ho trovato una questione per dei carabelli... Buone! 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 Che amore! Che spiagliatti, mangiamo caramella! Buone di voi! Amore! Bello! Un gran figlio! Sì! Vado! Buon bravissimo a mettere le strecchette, vai! Aspetta! Ah! Dove? Non troviamo! Eccola! Vado! Aspetta! Dai! Presidente! Quando vuoi! Presidente! Fermi tutti! Secondo! Ci siamo dimenticati del voto online? No! No! Tanto che ci siamo! Dove stavano i fogli di prima? Io ce ne ho! Io qua sto ancora con i fogli! Ah! Ok! Allora! Risultati! Non diciamo chi è? Ovviamente! No! Non c'è! No! Non lo sappiamo! Vabbè! Era per dire! Allora! Segretario risulta Staderini un voto! Nicolino Tosoni uno! Ah! Erano in due! C'era uno solo purtroppo la segretezza! Per il tesoriere uno per Michele De Lucia! L'altro a questo punto è bianca! Non è stato espresso! Presidente lo vedo già! Sì! Lì c'è! Aspetta! Aspetta un secondo! Uno per De Lucia! E uno bianco! E uno bianco! Ok! Quindi siamo 100%! Presidente voto online! Presidente uno Deborah Gianfanelli e uno Silvio Viale! Uno e uno! Partiamo pari! Vado! Pronti! Pronti! Vado! Cianfanelli! Cianfanelli! Pronto? Cianfanelli! 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 Viale Viale Viale, 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 Viale. Viale Cianfanelli Queste qua ancora le pure Cianfanelli 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 Cianfanelli, scritto malissimo, ma cianfanelli, 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 cianfanelli. Cianfanelli, cianfanelli. 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 Nulla. 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 C'è scritto Elena Dentamaro Nulla Bianca Elena Dentamaro, la figlia di Dentamaro Ah, la bimba Bianca 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 Devo contare questa Devo contarla E poi canti questa e si nota Mettila sotto Ciampanelli 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 Questo è Chianfarelli Vabbè, secondo me Come abbiamo fatto via Standerini Chianfarelli è quello Chianfarelli con due F È una persona Conosce bene la persona Buona Buona Ciampanelli 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 Viale 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 Viale. 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 Buon odore. Franco. Viale. 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 Stiamo cucinando. Viale. 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 le bianche sono queste qua le bianche l'abbiamo già 106, 116 106, 116 6 nulle, 7 bianche 7 bianche le bianche sono queste che vanno a ricontrare dobbiamo contare il cartaceo contiamo, conto piale fai un cucchiaio di 50 grazie a tutti 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 le nulle 5 anche io sono 6 anche io 1 2 3 4 5 6 allora tu puoi ricontare Viale sicuro alcuni potrebbero mettersi a cominciare a fare il comitato o no senza che blocchiamo no no eventualmente poi dal comitato si aggiungono quelle che si trovano in totale quanto venivano le schede prima dunque prima in totale venivano dunque 210 214 215 venivo prima in totale e adesso mi viene 235 no scusa 225 e adesso 235 contando sono sbagliato 106 più 116 225 ne mancano 18 scusa nel conto di 4 tanto che sa prima in totale venivano 196 202 232 eh allora avete ragione voi perché ne abbiamo 21 abbiamo 21 sì avete ragione voi sono conto 104 da una parte perché noi ne abbiamo 235 ah perché ci abbiamo messo i voti online va bene scolato adesso passiamo al comitato